Le elezioni anticipate sono più vicine o più lontane? Io sto alle parole del Presidente del Consiglio che ieri ha detto dalla Germania, per me è indifferente l'esito che ci sarà domani, per cui non credo che siano né più vicine né più lontane. Senta, la sua proposta, quella di fini di patto di pacificazione, insomma, è una sorta di grande coalizione, Berlusconi ha detto non se ne parla proprio. Se pensa di affidare il destino del suo governo alla contabilità parlamentare, pensa di metterlo al sicuro se invece di tre deputati in più ne ha dieci, è un problema suo. Dissi già prima dell'estate, nella famosa cena semi-clandestina poi pubblica da Vespa, dai tu un segnale, apri una fase di responsabilità nazionale, fai un appello alle forze ragionevoli e potrai essere tu stesso a presidere di un governo, perché tu hai vinto le elezioni. Quel percorso non l'ha voluto seguire come non ha seguito l'invito a dimettersi prima del 14 dicembre. Ognuno risponde delle sue scelte, sono le sue, non le mie. Onorevole Casini, mai con il Partito Democratico, anche se il PD rinunciasse ad allearsi con Vendola e Di Pietro? Ma questo aprirebbe una fase politica seria di riflessione. Noi dovremmo riflettere in un caso di questo tipo, perché vorrebbe dire che la sinistra italiana ha scelto definitivamente un riformismo reale, perché sentire Fassino che coraggiosamente dice io avrei votato sì e vedere Vendola che va davanti ai cancelli della Fiat per costruire un percorso diverso, che è quello di Landini e della FIOM. Questa è una contraddizione che loro hanno, a prescindere da me. Lei sulla Fiat ha detto io voterei sì perché sono d'accordo con Marchionne, ma il Presidente Berlusconi ha detto anche lui io sono d'accordo con Marchionne, ma se vincessero o no farebbe bene Marchionne ad andare via dall'Italia. Lei la pensa come Berlusconi? È una frase sbagliata, ma il rischio vero che Marchionne si è levata dall'Italia, questo c'è, c'è una grande tensione sociale oggi nel Paese, per cui io non santifico Marchionne, ma prendo atto che i processi produttivi cambiati oggi offrono opportunità di traslocare a tante aziende e credo che questo sia pericoloso per l'Italia, per questo avrei votato sì e voterei sì a questo referendum. Dopodiché credo che non possiamo correre un rischio, che in mancanza della politica decida Marchionne.